Carissimi Orgo Fan come va tutto bene ci siamo è tutto adobato per il Natale ci siamo scusate la bronzatura ma qui c'è un po di sole per cui il colore prende sì qui siamo in campagna il Natale si avvicina e noi dobbiamo essere pronti per fare la festa un po diciamo sobria però facciamo festa è Natale cosa dirvi abbiamo passato un anno un po tra gli alti e i bassi però è andata bene dai vedremo di finirlo ancora meglio questo anno Orgo Fan come va tutto bene mi raccomando sempre allegria in famiglia eh ragazzi sempre allegria sempre sempre facciamo due passi sì facciamo due passi cosa dirvi il lavoro è ancora diciamo deboluccio si è un po le serate si ha l'intenzione di farne qualcuna adesso per il Capodanno speriamo che non le cancellino perché la voglia di fare c'è vero amiccio eh lo vedete il mio amiccio qui lo vedete lui viene sempre appresso eh micci eh miccicci o miccilo eh siamo qua mi raccomando tutti quelli che sono lontani dalla loro Sardegna e tutti quelli che sono lontani dalla loro casa tenere sempre i contatti perché la vita è bella e dobbiamo viverla dobbiamo viverla tranquilli volerci bene io cosa dirvi io vi ringrazio perché mi seguite perché mi ascoltate perché ci teniamo compagnia molti mi dicono che vi faccio sorridere e io sono contento sono contento vedete il mio gatto è sempre com'è micci micci eh vero che sei bello tu eh eh lui è come un cagnolino bene ragazzi auguro a tutti un felice Natale con la famiglia con gli amici e ogni tanto ricordatevi del vicino di casa sorridete ai vicini di casa perché sono le uniche persone che ci stanno vicino eh un abbraccio ancora ciao Urgufans ciao a tutti ciao ciao